In questi giorni tiene banco lo sforamento del deficit pubblico, il ministro dell'economia frena, Di Maio, vorrebbe copiare i francesi, pensando che copiando i francesi solamente in una piccola manovra sia la cosa più corretta, ma in realtà non si possono copiare gli altri paesi europei a macchia di leopardo, non possiamo prendere solamente le cose positive e lasciare le cose negative a parte, un paese o lo copiamo per intero o non lo copiamo affatto, noi dovremmo avere un piano, una politica industriale nostra con le nostre caratteristiche, quindi immaginare che la stabilità e la crescita finanziaria passi solamente per l'aumento del deficit perché i francesi lo fanno, mi sembra una cosa un poco assurda, dobbiamo imparare ad avere un nostro piano industriale, dobbiamo imparare ad avere un nostro piano, una nostra programmazione, copiare i paesi, così dicendo la Francia lo può fare e quindi lo possiamo fare anche noi, è sbagliato perché il nostro debito pubblico non è il debito pubblico dei francesi, la nostra caratterizzazione, la nostra macchina amministrativa, la nostra pubblica amministrazione non è la pubblica amministrazione dei francesi, mi sembra assurdo immaginare che un ministro dica copiamo un paese semplicemente perché fa lo sforamento del debito pubblico, qua si gioca con la pelle degli italiani, mi sembra eccessivo.